Ciao a tutti, sono Birbo, il gatto dell'angelica. L'angelica è arrabbiata perché non mi è arrivata la sim per usare il modem e sta usando i supportati, i supportati è stra mega lento. Oggi ci provo a caricare un video del portatile, però non so se riesce. Volevamo dire che Odi va in bici, vediamo se magari attaccando la GoPro in bici e faccio qualche ripresa del giardino, vediamo. Comunque da domani in teoria ci sarà una rubrica nuova come si addestrara il cane. Scusate se parlo a bassa voce, ma ho preso un po' di freddo stanotte, il mio letto mi ha fatto uno scherzetto e mi ha tolto la lenzuola di notte. Infatti oggi ho un pochino, un pochino di... ho bassa voce oggi. Se volevo dire, io sono ancora un cucciolino, ma sto aiutando la mia padroncina a preparare per Natale la casa e anche per la festa dei diabetici che è sabato. Arriviamo a migliaia iscritti per sabato. Dai, per favore, che è la festa dei diabetici. La mia padroncina sarebbe felicissima. E il 25 di novembre io faccio sei mesi o sette mesi, non mi ricordo. Ciao ciao! Miau! Scusa, miau, 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 miau. Ciao ciao!